La Diatec Trentino ha voluto chiudere fra i propri tifosi e nel cuore di Trento la quinta settimana di preparazione in palestra. In via Osma Zurane è stato un pomeriggio di foto, selfie, autografi e brindisi con la birra. Con l'occasione è stato distribuito il mini calendario con tutti gli impegni della stagione che inizierà a breve e la cartolina con la prima foto della nuova squadra. Ma la seguite sempre la pallavola? Sì, sempre. Siamo molto sportive con la mia mamma. E' seguita sempre la squadra? Sì, abbiamo l'abbonamento. Ho visto l'ultima partita delle Olimpiadi e mi sono aggassata tantissimo, quindi è anche un'emozione vedere adesso qui. Il giocatore migliore quest'anno? Giannelli. Nell'ultima settimana Stoker e compagni hanno svolto sette sessioni e l'amichevole a Piacenza, iniziando a costruire la propria idea di gioco anche grazie al definitivo inserimento in gruppo dei cinque giocatori reduci dall'Olimpiade di Rio. Il prossimo periodo sarà intenso per la serie di test match previsti in casa contro Piacenza e la partecipazione al trofeo Villafranca, occasioni in cui anche i tifosi potranno iniziare a conoscere dal vivo le caratteristiche della rosa rinnovata. Mondiali per club. La squadra tornerà a partecipare? Tu li hai già vissuti? Che esperienza sarà? Sono belli ricordi, c'erano l'ultima volta tre anni fa, quindi c'ero molto sorpreso per questa possibilità di andare in Brasile. Per me anche in Sud America sarà la prima volta. Ogni mondiale ha la propria storia, è un'esperienza incredibile poterlo fare un'altra volta per me, ma soprattutto per la società so che a livello mediatico è una spinta per tutto il movimento trentino e insieme poi ai risultati della nazionale speriamo che serva un po' da volano per dare un po' di brio a un movimento che ultimamente un po' di pecche ce le ha e quindi vediamo di andare giù e fare il meglio possibile.